Il tecnico della capolista, capolista, mister, da inizio della stagione. Sì, questo dice la classifica e noi siamo contenti. Adesso parte un altro campionato, da sabato abbiamo una partita molto molto, se verrà confermato l'anticipo, importante, perché dobbiamo andare poi eventualmente nello scontro diretto preparati, ma dobbiamo pensare innanzitutto a sabato, perché è un passo alla volta e non dobbiamo cadere nell'errore, ma questo non lo faremo di sottovalutare questa altra partita che verrà, perché poi il Delfino, sapete, è una squadra che lotta su tutti i campi e non regala nulla. Assolutamente sì, mister, come del resto, come abbiamo visto, il Lanciano è stato un osso duro. Lei l'aveva anche rimarcato alla vigilia, una partita che non è mai da sottovalutare. Il Lanciano ha fatto sempre degli ottimi primi tempi. Comunque è arrivato il gol di Farindolini, undicesimo marcatore, lo stiamo dicendo proprio con lui qualche istante fa. Questo è un grande segnale, segnano praticamente tutti. Sì, ma anche perché abbiamo fatto la strategia della società di avere una rosa ampia, sta pagando, perché noi oggi avevamo tre, quattro assenti e siamo riusciti a sopperire benissimo. Anzi, chi ha giocato veramente è stato bravo, lo stesso l'ultimo Lucarino, che è entrato tutto il secondo tempo e ha fatto veramente bene. Temevamo questa partita perché se non la sblocchi devi stare attento fino alla fine, devi stare concentrato, devi tenere la squadra del Lanciano lontano dall'area e cercare senza avere frenesia di trovare lo spiraglio giusto per sbloccarla. Poi è chiaro che loro fisicamente sono crollati nel secondo tempo, come spesso gli sta capitando, e quindi la partita si è messa in discesa. Dunque, il duello che continua con l'Aquila, la prossima partita, Delfino Flaccoporto, come aveva detto, partita molto molto difficile, e poi ci sarà proprio l'Aquila nel turno infrasettimanale. Diciamo che sabato c'è la partita per noi fondamentale, e quindi dobbiamo pensare solo a questa partita. Quella dell'Aquila ci sarà un paio di giorni per pensarci. Io penso solo alla partita con il Delfino perché secondo me è una partita chiave che noi dobbiamo vincere assolutamente, e sapendo che affrontiamo appunto una squadra organizzata che farà di tutto per darci fastidio. Però noi dobbiamo continuare a... Adesso se abbiamo la sesta marcia la dobbiamo mettere dentro e accelerare ancora di più. In questa maniera si fa per arrivare fino in fondo. Quindi adesso dobbiamo fare come una corsa a tappe. Alla fine di una tappa c'è lo sprint, quindi bisogna dare tutto adesso.